Domani fare cestino nuovo Quando siamo arrivati qui alla stella di Cartapesta giriamo e attraversiamo il corridoio Il piattino muore il pallino Dennis Il piattino muore il pallino Dennis Il tè? Tè? Com'è il tè? Il tè? Fallo bene? Così? E l'altro gesto per il tè qual'è? Patrizia diceva che non c'è Perchè non c'è